Gaetano Facciocco, l'attesa è finita, finalmente si riparte ed è già una grande notizia. Certo, certo, in due parole era chiuso tutto lo stato d'animo della società. Finalmente si riparte, siamo tutti in attesa di questo esordio, la squadra che abbiamo allestito già dall'inizio, da quando non c'era ancora questa problematica, era rimasta la stessa, l'abbiamo confermato tutti, e adesso siamo pronti a partire, è un campionato veramente impegnativo perché le squadre che sono rimaste e che concorrono sono tutte squadre attrezzatissime che in corsa si stanno ulteriormente rinforzando. Noi faremo il nostro, portiamo avanti le nostre idee, di far giocare i nostri ragazzi insieme a dei senior scelti proprio per questo progetto e speriamo, ci auguriamo tutti di fare il nostro meglio, ma soprattutto ci auguriamo che tutto vada liscio dal punto di vista sanitario, soprattutto. Assolutamente, questa è la priorità. Faremo il nostro significa vincere. Vabbè, nessuno, allora, nessuno farà squadre, cioè ci sono squadre, diciamo che la nostra idea è quella di vincere, adesso si è complicata ulteriormente proprio in virtù di questa selezione che si è creata dovuta a questa pandemia. Questa selezione ha fatto in modo che le squadre che concorrono per questo campionato vogliono tutte quante vincere, quindi purtroppo ne vincerà soltanto una. La formula magari, no, non c'è un po' penalizzato, un po' penalizzato un po' tutto il girone perché noi pensavamo prima e seconda, invece solo la prima va a fare gli spareggi con la vincente da Regione Lazio, quindi diciamo fuori secondi. Tanti ragazzi però, questa è la particolarità pescaresi, direi di fatto tutti tranne i due stranieri e Capitanelli che è un pescaresi d'adozione. Bravissimo, bravissimo, hai individuato ancora un'altra volta la chiave delle nostre idee. Dunque, la squadra è forte, i due stranieri sono di primo ordine, Capitanelli non ha bisogno di presentazioni, Grosso non ha bisogno di presentazioni e gli altri ragazzi sono tutti ragazzi, diciamo, un po' di esperienza a segno ce l'hanno, non tantissima, però diciamo che sono la nostra scommessa. Se loro renderanno secondo le nostre aspettative possiamo ambire a fare molto bene. Certo, il quartetto di senior, diciamo, è di primo ordine, quindi abbiamo proprio voluto fare questo, però anche a prescindere dal modello della vittoria del campionato, noi potremmo fare una programmazione. Quest'anno già provarci da subito, però abbiamo mai di arrivarci magari con i nostri ragazzi, di modo che avere un telaio dove, perché adesso fare squadre di 8-10 giocatori esterni con le normative che ci sono, della situazione economica che c'è in Italia, non è possibile. Quindi vogliamo programmare e fare del nostro meglio già da subito, diciamo così. Già da subito significa vincere la prima in casa, tra l'altro domenica contro il Pisaurum Pesaro. Quali sono le caratteristiche degli avversari? Pesaro è una squadra di categoria, ostica, come tutte, noi ci presentiamo a questo campionato da esordienti, loro sono già ben rodati, giocatori che si conoscono già da tempo, diciamo smaliziati, oltre che essere bravi anche tecnicamente. Quindi tutte le partite saranno tutte battaglie, perché, ripeto, il campionato è equilibrato e verso l'alto. Verso l'alto, e allora in bocca al lupo di cuore. Crepe il lupo, grazie. Grazie.